Si è aperta a Roma la prima delle tre importanti giornate del World Aral Food Council dal cibo all'abbinamento, dal turismo ai medicinali, dalla cosmesi alla cura del corpo. Sono quasi 2 miliardi consumatori nel mondo che aspettano di poter acquistare prodotti e servizi made in Italy purché siano certificati alal, che in arabo significa lecito, quindi realizzati secondo i dettami della Sharia, alla legge islamica che stabilisce cosa è il lecito proibito per un musulmano. E' questo dunque il tema del meeting che ha radunato per la prima volta in Italia tutti i rappresentanti delle autorità alal mondiali e gli esponenti dei 57 stati islamici dell'Organization for Islamic Cooperation. All'evento organizzato dalla sezione italiana di Alal International Authority, l'unico organismo riconosciuto per la certificazione di qualità dei prodotti secondo gli standard islamici, sono intervenuti fra gli altri anche il sindaco della capitale Ignazio Marino che ha detto che dobbiamo candidare Roma e l'Italia a diventare il punto di riferimento del mercato alal che rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese, soprattutto in questo delicato momento. Grazie.